Dopo l'incidente della metropolitana potremmo dare sei treni alla metropolitana, se arriva da Roma all'ocche del Ministero, ma prima non ve li poteva mettere a disposizione? Purtroppo sono treni che non funzionano nella linea 1, il Presidente dopo 5 anni di governo della Regione dovrebbe sapere che tra le varie peculiarità che abbiamo a Napoli abbiamo una metropolitana particolare, nel senso che per come è conformata possono andare solo determinati treni, altrimenti ci avrebbe forse pensato lui prima, ma soprattutto ci avremmo pensato noi prima. Quindi un ipositis tecnicamente non fattibile, proprio tecnicamente. No, non sono idonei, rischieremmo nemmeno un disastro, non si mettono proprio, andremo su blob, non vanno su binari.